Quando penso alla fotografia in realtà spesso penso che allo scatto già stampato Quindi per me è importante ragionare in questi termini La foto diventa fotografia quando scattata Rimano immagini e poi quando stampata diventa fotografia Io a Svaniano sono venuto in realtà di solito non amo fare molti festival Perché lo trovo un concetto molto obiettizzante Perché per me la fotografia è qualcosa di molto più alto rispetto alle lunghe Però è anche vero, a volte è anche il nostro compito di dare la possibilità agli altri Di affrontarsi con lo scatto stampato Quindi capire alcuni perché sai In un momento storico come questo dove il web sta prendendo vento E potere sopra soprattutto per pigrizia Perché il fatto di andare a una mostra incide partecipazione Quindi mi sembrava un dovere andare a fare una mostra quasi fisica Quindi ho portato due lavori in realtà che dialogano tra di loro Ma non dialogano mai con me, dialogano con quelli che guardano E io nelle mie foto in realtà non do risposta Perché non ne ho I miei scatti sono tante domande Tante domande all'angoscia di un momento storico Mi sono consapevole di quello In realtà devo dire la verità Non posso dire neanche che ne vado fiero Però è il mio destino Di fare un tipo di fotografia Che chiede all'altro di prendere posizione O sì o no Non è una fotografia di compiacimento C'è troppe cose che cercano di compiacimento Un momento storico tipo questo La mia mostra è in realtà Il mio atto è l'autoanalisi Potrei sembrare molto diocentrico Ma se io faccio l'autoanalisi Faccio l'analisi Faccio una specie di autoanalisi Di una società Quindi visto che io mi sono membro E questo secondo me è un atto vigoroso In un momento storico come questo Io credo che la fotografia sia È un atto per andare verso il diverso Quindi verso l'altro Ma si può fare anche in modo elegante Non solo in modo gridato Come si fa di solito Per quello cerco una purezza estetica A volte apparentemente Ma che in realtà non nasconde L'imperfezione di questa società Perché come sappiamo Che la più ipocrita E la più falsa dei prodotti Che stanno vendendo È quella della perfezione Che non c'è C'è una perfezione apparente Per fare una riflessione sulla sostanza La sostanza non è mai perfetta È quello che È la cosa più erotica È amare proprio l'imperfezione Sia la nostra imperfezione Sia quell'altra Io davvero Molti cercano di dare delle risposte Io faccio solo domande Orbeidsca 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 Grazie a tutti